Alla conferenza Sampa non c'era, segno inequivocabile del suo dissenso. Angelo Grillo, consigliere comunale a Pagani in quota PD, prende le distanze dall'accordo tra i democratici e l'amministrazione Bottone. Non era quello che immaginava quando si è seduto tra le file dell'opposizione, così come critica l'operato del sindaco. In tre anni non si è mai seduti per parlarne. Il piano regolatore, il PUC, il piano regolatore generale, il piano urbanistico comprensoriale addirittura, non tanto quello comunale che pure serve ed è importante, è il piano commerciale. Noi abbiamo visto a Pagani che l'apertura di un nuovo centro commerciale non c'è un paganese che ci lavora là dentro. Ma scusate, ma voi fate sul serio scherzate? Ma vi pare possibile che noi possiamo diventare, come siamo diventati, il paese a più alta densità nazionale di centri commerciali senza avere i paganesi che ci lavorano dentro? Ma questa è follia pura. Non credo che sarò mai tentato di votare a favore di questa amministrazione, ma non per partito preso, semplicemente perché fino ad oggi, sono ormai quattro anni, manca qualche mese, sono ormai quattro anni, io non ho ancora sentito una idea, un progetto che possa essere utile a questo paese. Tenete conto che noi ormai andiamo dopo tre anni e passa, quattro anni circa, in consiglio comunale semplicemente per approvare i debiti fuori bilancio. Oppure i regolamenti. Io vi manderei a casa di ognuno, manderei a casa di ognuno il programma dell'amministrazione che il sindaco Bottone ha presentato in consiglio comunale e al paese all'indomani delle elezioni. È il niente. E quindi praticamente questa collaborazione è sul niente. Credo che una qualche operazione intelligente l'abbia fatta il PD. Siamo alla vigilia di una scadenza importante. Il PD recupera ad un consenso il primo cittadino del paese e questo può portarlo ad un buon risultato. E io lo auguro. Io augurerei al paese che questa collaborazione, che loro chiamano collaborazione, porti cose utili al paese. Io non devo rimanere da nessuna parte, non devo fare niente di diverso da quello che faccio. Il problema non è essere nel gruppo, fuori dal gruppo. Il problema è quando siamo là dentro che cosa facciamo e che cosa diciamo. Io continuerò a dire le cose che ho detto finora. O continuerò a parlare di progetti, continuerò a parlare di programmi. Dice no al matrimonio, così lo chiama Nicola Campitiello, prima dei non eletti del PD. È un accordo scellerato, ha dichiarato, che mai potrà portare il beneficio di cui parlano. L'accordo è un frutto di logiche ed interessi personali che nulla hanno a che vedere con il bene della città. Io con il mio gruppo, che consegnerà a breve le dimissioni dal direttivo del partito, riteniamo conclusa la nostra esperienza all'interno del Partito Democratico. Grazie.